Un incendio si è sviluppato ieri sera in via Filette Procuzzi nella contrada di Gromola a Capaccio Pestum. A prendere fuoco un deposito contenente centinaia di cassette in legno e plastica di proprietà dell'azienda di ortofrutta Desiderio. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Agropoli che hanno provveduto a domare il rogo e gli agenti della Polizia Municipale diretti dal Maggiore Natale Carotenuto che hanno interdetto l'area al transito veicolare. Sul luogo dell'accaduto anche i carabinieri della Compagnia di Agropoli che hanno avviato le indagini per risalire alle cause dell'incendio. Non esclusa la matrice Dolosa.